La mia videotape Nino D'Angelo Buongiorno 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 Come serve? Sindaco che tenesse qualche film di supereroi? Come no? Arrivederci oggi Questo film che parla della moda dell'uomo ragno Questo è Nino D'Angelo che ci bagna Mosca una continua Questo fa girare con una macchina 1.800 doppio marmitte stereo 500 Watt e un microfono sopra il volante mentre la macchina può cantare E perciò Nino D'Angelo siccome la macchina è Spider lo chiamano Spider-Man Un malamento fa Maurizio Mosca lo chiamano Station Wagon Man Nino D'Angelo e Maurizio Mosca volessi cittadino il conflitto ma poi un cap è un manno in esilio Dove? A Mosca, in Russia 10 euro Poi sta stato fermo che non è di supereroi ma è bella sala stanno a Mosca nascosti dall'ufficio di Seneca di San Zavio che però non riescono a capire gli mettono un volino ma a Mosca ci vuole le vupite le vupite le vupite capire che l'hanno detto non bene da mancare una ma non vuole chiamano la polizia la testa di cuoio l'esorcista ma a Mosca ci sfregna tutto quanto Poi però arriva Nino D'Angelo Esatto arriva Nino D'Angelo che a Mosca canta la canzone 44 Gatti e oggi ce ne fu il padre Sperazio il film c'è un titolo un dopolino sotto sfratto a parte di oggi ce la fa l'assessore Gravino Franco Gravino eh ma Franco Gravino è mio assessore per ora aspetti dopo l'elezione hm ehm pochetti ci sta ah sta sto film qua bella sa questo è un film da Camorra che ha parlato quando ci ha pendito il don Raffaele Esposito il capo della grande Camorra mondiale totale tutti i cantanti San Zavarese hanno fatto una canzone che ha parlato questo fatto qua Gigi D'Alessio che è di Napoli no di San Zavarese sicuramente ha fatto la canzone Tradimento Gloria Christian ha fatto la canzone O Cornutone Mario Merola ha fatto la canzone figlio di quel coso che si metta la sigaretta per filtrare il fumo mh ma vedi che qui le sto cantando Napoletano noo sono senza vai dire in tuo film sta pure Nino D'Angelo che va in tuo carcere speciale a questo boss che però sta triste assai perché sta in crisi di astinenze da piombo e allora Nino D'Angelo non uccidi lo cura come lo cura? pigli pallottole da pistola in caso di piombo e ci metta a suo posto tutto e 24 pallottole e un boss guarisce e non ci pende più mh e come se io chiamo sto film? terapia e pallottole 10 euro